Ciao a tutti e benvenuti a Giallo Book, le video recensioni sui libri gialli. Oggi vi parlo di un giallo davvero davvero bello, ma che è una piccola pecca. E sto parlando di I Diavoli di Tokyo Ovest, di Tommaso Scotti, del 2023, di 316 pagine della Longanesi. Da un punto di vista di grafica, bella l'immagine di copertina, belli anche i colori, belle anche le scritte a rilievo, meno bella la presenza del bollino, della sovracoperta, della copertina rigida e delle alette interne. Un giorno, anzi una mattina, un motociclista viene ritrovato morto in un parco. E la polizia, lì per lì, pensa sia un suicidio e chiude il caso come tale. Però il padre di questo motociclista non è convinto. E sapendo che il figlio è amico di un poliziotto, chiama il poliziotto, ovvero l'ispettore Takeshi Nishida, e gli chiede di indagare per arrivare a scoprire la verità. E Nishida, a modo suo, inizierà a indagare. Da un punto di vista di trama, la storia ci sta. Da un punto di vista di stile, il libro si presenta con dedica, prologo, storia, epilogo, doppia postfazione, ringraziamenti e vetrina. I capitoli sono denominati con un numero, e alcune parti del testo sono scritte in giapponese, e sotto viene riportata la traduzione. Oppure, al contrario, se è tradotto dal giapponese, sotto viene riportata la versione originale. Di questo libro cosa mi è piaciuto? Le soluzioni stilistiche, il realismo, l'immagine e i colori della copertina, le scritte e rilevo della copertina e la trama. Mentre, il finale, la sovraccoperta, la copertina rigida, le lette interne, e l'uso di volgarità e parolacce, sono le cose che a me non mi sono piaciute. Di questo libro cosa penso in conclusione? Allora, è un bellissimo libro. Nulla da dire, è una storia bella, vincente, convincente, cazzuta, scusa del termine, cosa che Scotti sa fare alla meraviglia, alla perfezione. E' veramente, veramente bello. Però, l'unica pecca, è che è scritto un po' troppo piccolo per i miei gusti. Quindi l'avrei preferito un filo più grande, il font con cui è stato scritto. Detto questo, mi sento di consigliarlo a tutti, veramente, perché non ho trovato categorie che potrei escludere, ecco, da escludere. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete letto, se vi ispira, se lo comprereste. Mi ricordo che se vi piace il video che faccio, considerate l'idea di iscrivervi al canale e attivare la campagna se vi do, che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo potete iscrivervi sotto nei commenti, io risponderò appena possibile. Di iscrivervi al canale di cui trovate il link in descrizione, di farmi sapere nei commenti se e quali nuovi format volete che porti sul canale di Monozal che ve li posso portare, di condividere questo e o altri video del mio canale con i vostri amici e invitarli a fare altrettanto, di montare che più siamo e più ci divertiamo. Infine, vi avviso che venerdì 29 sarò in live qui su YouTube, al solito, quattro chiacchiere a tema libresco e non, quindi siateci numerosi e con le domande, grazie. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Ciao!